Ciao a tutti, sono Marianna del team LearnWell, educazione al benessere, progetto di New Wellness Education, finanziato da ESC, l'Agenzia Nazionale European Solidarity Corps, tramite i fondi Erasmus Plus e Agenzia Nazionale per i Giovani. Anche oggi parleremo di sport e benessere e di come questi possano chiaramente essere combinati fra loro, in quanto lo sport consente di avere e di ottenere un maggiore benessere non solo fisico, ma anche e soprattutto mentale. L'obiettivo di oggi è quello di lanciare la challenge, quindi vi lancio la sfida del mese. Come più o meno tutti sappiamo, quotidianamente occorrerebbe percorrere 10.000 passi per poter avere una vita attiva e quindi per non condurre una vita sedentaria. Quindi l'obiettivo è quello di tenere un piccolo diario o semplicemente di poter scrivere quotidianamente i dati anche sul nostro smartphone, monitorando da quanti passi quotidiani partiamo, quindi quanti passi quotidianamente ognuno di noi percorre per poter raggiungere l'obiettivo dei 10.000. Provate anche voi e fateci sapere!